Più manifestazioni non autorizzate al sostegno di Alfredo Cospito e contro il 41 bis. Questo è il motivo di perquisizioni effettuate anche in Umbria e disposte dalla Procura di Roma. Le operazioni dei Carabinieri del Rosso e degli agenti della Digos hanno riguardato le città di Spoleto e Foligno. In particolar modo, tra i luoghi perquisiti, anche il circolo anarchico La Faglia-Foligno.